Weinsberg Cara Tu 480 QDK, trovata al centro caravan Costantini, pronta consegna. In pratica è la risposta a chi cerca una caravan di buona qualità, ben costruita, ben rifinita, ben accessoriata, a un prezzo ragionevole. Guardate anche l'apertura libro del gavone anteriore, com'è perfetta. La cucina, che è centrale con i servizi contrapposti, si presenta in maniera assolutamente regolare con il frigorifero a colonna. Contrapposta alla dinette matrimoniale, trasformabile l'occorrenza in un letto, i letti a castello sono posteriori, Anteriormente abbiamo il letto matrimoniale trasversale, che qui vediamo in tutta la sua interezza e con dimensioni decisamente importanti. Vano toilette con piatto doccia e da notare il lavabo di grandi dimensioni e in un materiale non satinato, quindi facile a pulire.